La vita da pilota può sembrare solo bella in realtà è anche molto impegnativa e difficile andare in giro per il mondo non è semplicissimo soprattutto quando si fanno le trasferte extra europee il problema più grosso è proprio quello del jet lag e non ci capisci più niente diventa molto difficile fisicamente recuperare. Ogni settimana si è in una nazione diversa si viaggia tanto si sta lontani dalla propria famiglia tant'è che il team diventa la tua seconda famiglia soprattutto con i meccanici dove devi instaurare un rapporto davvero profondo diventano un po' dei secondi genitori ci sono delle difficoltà ma essere pilota davvero figlio. Il ricordo speciale che ho io è comunque la prima volta che sono andato in America a Laguna Seca riuscì a fare un sorpasso meraviglioso al famoso cavatappi su Troy Corsair quelli sono i ricordi che ti rimangono per sempre. Quando parto nel mio zaino ci devono essere sempre cinque cose che controllo molto meticolosamente il passaporto altrimenti non ti imbarchi, un libro, il tablet, un telefono e una piccola farmacia.